Con il ballottaggio alle porte per eleggere il nuovo sindaco del comune costiero di Giulianova, uno degli argomenti più sentiti con l'estate dietro l'angolo è la questione eventi e programmazione estiva. Infatti sono numerosi gli incontri che i due candidati alla carica di primo cittadino, Pietro Tribuiani e Ivan Costantini, stanno portando avanti in primis con gli operatori turistici per improntare ognuno con le proprie idee un'estate degna di nota. Uno dei primi compiti nel caso in cui diventerò sindaco sarà quello di salvaguardare questa stagione estiva perché dobbiamo mettere in piedi degli eventi, altrimenti la stazione è già abbastanza compromessa. Fondi a bilancio ne sono pochi, quindi mi impegnerò a cercare di sensibilizzare anche gli imprenditori della zona che abbiano a cuore Giulianova cercando appunto sponsorizzazioni per cercare di movimentare un po' l'estate giuliese. Gli operatori turistici tutti vogliono avere una spiaggia innanzitutto pulita, quindi è il decoro della città. Quindi questi sono i due aspetti più importanti. Un altro aspetto molto importante è legato alla sicurezza. Quindi le cose che possiamo fare subito appunto è lavorare sul decoro, spiaggia pulita e mantenere le spiagge sicure. Queste sono le priorità e mi sento di garantire questo impegno e poi ovviamente arricchire un po' la stagione con degli eventi anche per attirare turisti al centro della città, sia a Lido che al paese perché abbiamo un bellissimo centro storico per cui anche le attività del centro storico hanno bisogno di flussi turistici perché la stagione purtroppo è breve e quindi dobbiamo sfruttarla al meglio. Gli unici che hanno detto che andranno ad attingere, perché lo sappiamo come fare, il commissario ci lascia 10.000 euro per gli eventi estivi, cifra non adatta e idonea al Comune di Giulianova, andremo ad attingere al fondo di riserva, per legge possiamo arrivare fino a 54.000 euro e quindi avremo circa 65.000 euro per regalare un cartellone delle manifestazioni estive degno della città di Giulianova. Gli altri neanche lo sanno che si può fare. Quindi noi da lunedì ci metteremo qui, sposteremo quelle poste, inizieremo a studiare il calendario, abbiamo già proposto di montare due palchi permanenti, uno in piazza Buozzi e uno in piazza del mare e fare il piano sicurezza dove il sottoscritto firma in deroga. Quindi tutte quelle annose problematiche che avete avuto per fare gli eventi non ci saranno, firmerò in deroga, io mi assumerò le mie responsabilità di amministratore e regaleremo degli eventi idoni al Comune di Giulianova. E ogni sera ci sarà qualcosa da fare, ogni sera ci sarà un complesso che suona, ogni sera ci sarà qualcuno che se vuole uscire troverà una città che si diverte, una città che sorride, una città dove non ci sono diverse problematiche che sono state descritte da altri. Giulianova, città, stupenda.